Pubblicati i bandi di concorso per la 23esima edizione del Villa Mare Festival Film & Friends che si svolgerà quest'anno dal 22 al 29 agosto. Si riparte con un surplus di premi in denaro e di opportunità e con un occhio di riguardo al territorio cilentano grazie ai numerosi partner della Kermes. Il bando per la gara tra cortometraggi, aperto a tutte le opere della durata massima di 15 minuti, prevede l'assegnazione quest'anno di una serie di premi speciali. Oltre a quello in denaro, riservato al migliore corte in assoluto tra tutti quelli pervenuti, che sarà assegnato dalla giuria artistica, sarà possibile concorrere quest'anno anche al premio Pietro Di Luca promosso dall'omonima fondazione, che assegnerà 1000 euro al miglior corto che promuoverà, su esempio del giovane Pietro prematuramente scomparso, l'amore in tutte le sue forme, raccontando gesti e storie d'amore verso persone, animali, verso la natura, verso Dio e il territorio, in particolar modo il Cilento. Opportunità legate ai luoghi anche con il premio speciale BCC Montepruno, messo in palio dall'omonimo istituto di credito, che consegnerà 2000 euro al miglior corto che sarà girato su uno dei territori di riferimento della Montepruno, ossia Cilento, Diano e Alburni, promuovendolo. 1000 euro poi sono messi in palio anche quest'anno dal Rotary Club Film & Friends, il cui premio, che ha riscontrato nel tempo grande successo, è destinato al miglior corto in grado di raccontare i valori, i temi e le campagne di questa associazione di servizio internazionale. Non mancherà poi il trofeo, destinato al miglior corto a tema ambientale ed ecologico. Sul fronte dei lungometraggi, invece, sono partite le iscrizioni al contest internazionale, mentre l'organizzazione sta lavorando qui sul fronte della distribuzione dei film indipendenti. Tutti i bandi e le modalità di adesione con i dettagli sono consultabili sul sito villamarefilmfestival.it oppure sulla piattaforma Film Freeway.